Buongiorno a tutti i ragazzi qui qui sono nella vicenda del programma, sono un po' questo, non so neanche parlare Oggi c'è una nuova challenge di fortalmente Yeah Chissà un video in cui farò partite normali No In questa conchissà challenge Molto semplice, posso prenderci Anzi Bah Sono anni grandi E l'idea sono un pochino su questa cosa E' difficile anche quella Io direi di passare subito al game player Non so ne puoi parlare Ma puoi giocare Non fa tempo Vediamogli avanti Oddio, mi è curioso Vallo più bello di sempre Ma che bello Giocare con questo quadrato Che salta il sacco lì di lato Ma poi questo gioco Chi se lo prende? Mangia il pazzamone Allora Allora Potresti caricare? Allora 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 Ehm Decisiamo C'è Fino a domani Ok Ehm Ehm E' normale Tranquillo De so R mío Jamie Sì C'è ει Vabbè, facciamo un po' alba, continuiamo. Allora, ma sono borghi, no, sabbi, non chiedono, visto che è successo solo armi e l'alte, io direi di andare a po' delle pannocchia. E' un po' più buona, buona o più buona, dai che facciamo un po' reale solo con armi e l'alte, posso sapere che è praticamente impossibile, però quella, penso che è un armi e l'alte, e se riesco a pingarmi, ecco, c'è un mostro ultimo, più umano. Ovviamente le cure non valgono, non è vero, non posso prenderle, solo non mi vale. Se mi dimentico, per la fine, un'arma verde, ma c'è, non la voglio. Se io uso un'arma che non posso utilizzare, finisce il mondo. Prendo stranico di benzina, come se non ci fossero domani. Perché la benzina qui, prima di tutto, mai pompa all'ero, prima che la benzina. Almeno, sulle armi basse ci siamo. Allora, lì vede qualcosa. Mi stanno sparando. Eh. Dove? Tattica della vita. Questo è un muro. Non l'attacco. E allora, dito che mi volessi far soffrire. Però... 27... 23. Veditemi che mi volessi far soffrire. Dovete dirla. E poi i quattro colpi sono stato per ucciderlo, di cui ne sono serviti solo due, eh. Mi pare di aver visto qualcosa. Mi pare di aver visto qualcosa. Ah... CV18. Non ho materiali. Come ho vinto? Non lo so neanche io. Non lo so neanche io. Non lo so neanche io. Allora... Mi salvano armi di cura e... Lo so neanche io. Ci servono solo materiali. Tuttuk. non so che ci possa ancora... La pasta è verder. vero quell Archie... Nell... Senna il snel. non mori forse dal video non si sentirà molto probabilmente allora se mi avvicino al 106 si 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 questa challenge va meglio dal previsto mi stanno sparando però sono sicuro Sento l'un male, ho qualcuno nascosto qui sicuro. No! No! Lo sapevo io! Dai, riproviamo. Eh, mi sembra... Ok. Proprio, sono infarto. Devo impugnare un po' più ocemento, oppure devo costruirla. C'è sempre un errore. Quasi sempre. Stavolta cambio challenge. E va bellissima, va pure la cosa epica. Ah no, la grigia. Solo... Eh... Ci sono altre challenge. Posso avere, ehm... Per esempio, un'arma verde. Massimo un'arma verde. Massimo un'arma griglia. Massimo una rara. Secondo me questa è un pochino più semplice. Visto che non ci sono riuscito. Anche se... Non è una compa... Eh... Vabbè... C'è anche un pochino. C'è anche un pochino. Non ci sono più il nostro giocatore. Non ci sono più il nostro giocatore. Ci sono delle giocatore. ma è buota mi si è bugato tutto adesso non balla vuole scrivere con i ball io proprio vabbè è la mia mira allora poi delle pannocchia? no spero di andare qui no poco faccio il pannocchia si è che non c'era nessuno quindi non si va e poi è sicuramente fuorissima questo posso non cambiare la cesta nonostante cambiare la cesta ma cosa è una normale che è andata? tanto che posso prendere una che non fa male tanto non ha male nessuno quasi ho ucciso prima non so neanche io cosa ho fatta ho pochissima vita ho la pistolina si un pochino di tira grazie grazie come qui sì non è l'ho è è è qui c'è sicuramente un altro player no no non è vero però dai voglio provare questa challenge sempre di massimo un armaco si mi massimo un armaco lì vabbè comunque oggi in sonia ci dovrà essere una mega live un po' in teore di gioco ovviamente si chiuderà a metà perché non posso fare cioè si interrompe se chiudo un gioco e apro l'altro quindi ci saranno due parti ovviamente sempre oggi luce 2 in teoria uno di Mortal Kombat 10 che sono già al secondo capitolo che devo fare l'ho scaricato ieri eh non è che ci vogliono tanto mi raccomando venite perché io vi voglio vedere almeno 10 spettatori no 10 è un pochino troppo però quanti spettatori voglio vedere almeno 3 dai 3 modelli non so neanche cosa finisce dopo c'è lo squadro quanto mi manca ma lo yacht è affondato qui c'è ancora la grotta qui c'è la genzia quanto mi manca la genzia la grotta vabbè la grotta è ancora due cento di mano eh qui c'è la grotta qui c'è la grotta mi manca il vado che quello è bello un vado più bello beh io direi che lei c'è la grotta a metà eh la grotta da me la grotta da me io c'è un moppi golping c'è vivo è um chi posso dire van g 15 da si dente c'è anche ogni miglia non l'ho capito davanti c'è anche un nemico i nemizi sono molto belli qui c'è passato qualcuno ci sono proiettili d'accanto ma non ci sono qualche zombie esco da qui non ci sono non ci sono non è la migliore soluzione non ti è asciutto sono vulnerabile ci sarà un medico non c'è un medico no non è vero guardate qui giuro che c'è un'ultima volta però giuro non posso muare io guardo che rumore che faccio suonino i rumori che bello ma che bello non ci piace giocare affortunità no ma si anche se la figlia non si ha fatto cose che non doveva fare io devo la skin che portavo io prima voglio scopare anche cosa ho fatto eh ok ci ho finito di niente a bughiere già è una città con lì andavo un sacco di gente tanto dopo un'altra cosa non è quando i cipolli sono sono sì avanti sono in esiste la allora facciamo vedere una una l'altra no questa ha fatto no non ma che d'antron ne ho visto uno più decente questo assalto non mi piace finalmente posso sapere i progetti ma una cesta leggendaria? no! non posso sapere ah se è quello che volevo vabbè l'arma da vicino io l'ho sentito però una cesta leggendaria meglio epica sono praticamente già full ma non dico più ho sbagliato cioè ho usato i proietteli però la sentivo la cesta ma se vado sopra la li sento forse è sul tetto se questa cosa ha un tetto ah non la voglio non prendo la cesta non prendo la cesta ma se io te la voglio non prendo la cesta ma non prendo la cesta nemmeno che non prendo la cesta ma si e non prendi la cesta che è la cesta che è chegando alla cesta però mi servirà per lo più materiale facciamo che un colpo di 100 non mi ha chiesto tanto però mi ha convinto vediamo mi ha scommero se mi piace la nuvola dei zombie o come si chiama ah mi ha già lottato non è ancora morto l'altro è stato morto a ieri non non come è ucciso cosa ho fatto questo pezzo si clippa ora subito aspetta no aveva pure scar non mi ha detto allora questo non mi serve questo neanche le cura non hanno cura non voglio le vendere lo shield questo è qualcosa di materiale aveva no anche un pochino di falda no la pesca mi posso dire pesca qualche scuola non posso mai andarmela non posso fuggare non posso fuggare ma aspetta io ho due anime epiche no ehm mo com'è che faccio lo jump non vale roba in te ho usato per un proiettivo ma posso fare un'eccezione dai nei commenti scrivetemi se se vincerò la prossima scrivetemi nei commenti se è ballare o no perchè se ho usato solo un proiettivo io decido che da ora in poi userò lo spasso no questo è il mio ultimo tentativo eh vabbè vedo se c'è qualcos'altro dai posso fare una mappa guarda che farò oggi il live spoiler l'ho già fatta eh però ne farò tante in realtà però questa sarà più importante e questo non ho capito che cosa cacco questa mappa mi piace poco così poco tempo a caricare ci sarà poca gente che ci gioca strano allora non vedo da che ehm arrivi oggi pomeriggio per la mega live proprio faccio ritragliarli proprio uccido tutti se ci riesco a uscire pure a fare almeno un video da completare almeno uno forse riesco a fare di più ok 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 no 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 sono giovane no no dai vabbè andiamo dai ma dit quale io sono al.... a che attivare lo suono? solo spammare se giocare se giocare solo spammando poi partiti alla musica lunga dai, ha poca vita, potete uccidere partiti alla musica lunga e dai, aspetta che contro uno eravamo se non sto aiutando loro, eh, però pure io ho bisogno di farlo loro fanno un sacco di volte con me, io non posso farlo è eliminato è eliminato sto, sto guardando no perchè proprio a me il primo reset c'è il tutto sfuggito che ho quindi io sono a che livello? sono al livello 3 o 4, però ripena al 5 53 c'è se non prendo non posso fare no la mia mira la migliore la mia mira tengo il calico perchè non voglio sapere che è molto forte però non ho messo non ho messo una cosa diversa io ero sicuro che non ho fatto no 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 poi per un sicuro che nei video è come le live per il micro non ho messo perché non ho messo non so se posso fare io se ti sento male o è proprio una voce ma perchè? non c'è cosa di tempo? non fa neanche questo e poi io non mi puo' uccidere in un corpo non è perchè se è così se è così poco a me ecco ecco che c'era tocca la magia beh è buono è buono io ci faccio con questa magia questo ciò fa capire ma è impossibile è impossibile che abbia capito quei danni forse no io l'ho già fatto che fare mi vengo a salvare devo salvare i miei amici e più o meno mi vengo a salvare perchè io sono bravo non 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 ciao come va non 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 ciao ti ho lasciato la libertà io vi libero e poi mi dovevi fare insurare no, non mi è andata non rimane impugnibile no, non. Non c'è l'unico Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un momento del fight. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. Scusa se ti ho liberato ma la lancia radio è un poccino. No, e dai Non mi fa posizione del push Ah, mi pusha lui Ah, no, ma data Io ho qualcuno di poter usare, non con 150 Ah No, no, no No, no No, no No, no, no Dai, dai No No Sto facendo una scamola Dai Questo non dico da pistola, ma è un momento epico Non ti muro la tua colba Non sta qua Basta, che colore posso pensare, ma con 150 Basta Ed è la 50esima volta No, no, l'avete visto Non mi hanno ammirato in testa, sul collo Adesso l'ido io Quindi è bene qui, l'ultimo Haha, io è stata trabai Ho stato detto Dai, quello è il ferro E vieni Era uncco E vieni Isto è un Ama Alla, ecco un po' più famiglia non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Dai! Dai! No, adesso! Allora, dove sta? Allì Ah, questo video è molto sorpreso Io non ho provato tutto! No! Questo sto facendo! No! Non rispondi! Che mangi? Con uno posso fare tale! Con uno! Dai, inizio! Al massimo! Ora! No, no, no! Questo non l'avete visto! Perché è troppo veloce! A parte che è una miscita lunga! Allora! Mi sto stufando! I burini! Ci sono i burini! Mi sto proteggendo! Ciao! Mi dico non è la mia amica! La mia protetta è la porta! Però gli do un favore! Sono i burini! Si bello anche se non lo sposte per questa porta! Che va! nonono nonononononono nononono non stato facuto dal franco Ah, cos'è il gioco? E' il succo di me Vuol dire che mi metto a risponderare anch'io Ma che bella Sono un'essa Ma che bella 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 Ciao Ciao Ciao